Ciao a tutti, andiamo avanti con le tecniche sulla cervicale, anche questa manovra è molto simile al precedente, useremo le due mani in maniera sincrona, però in questo caso non facendo degli sfioramenti ma applicando dei semicerchi, dei cerchietti, movimenti C, come volete voi. Quindi partiamo sempre con le mani sotto la spalla, andiamo a lavorare tutta la zona del trapezio, ricordatevi di fare più pressione dall'esterno e meno pressione quando ci avviciniamo nella zona cervicale e ripetiamo il movimento più volte. Poi se volete, quando avete concluso il movimento che siede sulla zona dell'occipite, qua possiamo soffermarvi a fare delle C, dei movimenti a cerchio, soffermarvi a farli un po' sulla zona occipitale che risulta molto facile. Quindi movimenti a cerchietto sincroni sulla cervicale. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo per la prossima tecnica. A presto!